Io penso che quando siamo a discutere della riforma della nostra Costituzione si debba stare al merito e al confronto sul merito. Mi pare che nell'ultima assemblea del gruppo lo stesso Presidente del Consiglio aveva fatto delle aperture sulle convergenze di merito rispetto alle competenze, al ruolo di controllo del Senato, dicendo che si deve riflettere sulle modalità di elezione. Se si va avanti su questa strada non ci sono rotture. Il problema sulla Costituzione è di fare una buona riforma. Questo è l'interrogativo perché le Costituzioni restano, non sono dei parlamentari in carica, non sono dei governi in carica, sono dei cittadini italiani.